Come prima cosa dobbiamo collegarci al sito di Tinkercad, quindi possiamo cercare dalla barra di google tinkercad.com e in automatico dovremmo essere riindirizzati al sito. Ecco come potete vedere, questa è la home page del sito dove scorrendola verso il basso avete un po' un'idea, una descrizione di quello che vi permette di fare. Tinkercad ha tre applicazioni principali, quindi la modellazione 3D per la stampa 3D ed è quella che sarà la maggior parte del corso. Faremo dei piccoli approfondimenti anche sulla programmazione, simulazione e assemblaggio di componenti elettrici e una delle ultime cose che sono state aggiunte è quella di poter progettare tramite codice a blocchetti, quindi un minimo di coding sempre partendo dalla modellazione di forme 3D. Perfetto, per qui vedete abbiamo alcuni esempi, quello che ci serve per poter accedere è di iscriversi, quindi la prima cosa da fare per poter utilizzare questa applicazione è andare a cliccare sul pulsante iscriviti. Una volta cliccato sul pulsante iscriviti si aprirà questa pagina di registrazione dove poter inserire il paese da cui ci si sta registrando, quindi nel nostro caso andremo a scegliere per esempio Italia, la data di nascita, quindi mettiamo aprile 8 e mettiamo 1980, a questo punto andiamo avanti e ci chiederà ancora qualche dato, in realtà non molti, ci chiede di inserire un'email, una password e accettare i termini del servizio, quindi questo possiamo dare subito la spunta. Considerate che registrando un account Tinkercad voi avrete accesso a tutti i servizi online forniti da Autodesk, quindi questa è un'email, un account che potrete riutilizzare anche per tanti altri siti sempre naturalmente inerenti al mondo della stampa 3D, per cui mettiamo un'email che posso chiamare corso.tinkercad.it, nella password come sempre ci sono delle specifiche, quindi se io do invio nel campo vuoto, lui me lo evidenzia di rosso come errore, però mi elenca tutte le caratteristiche che deve avere la mia password, quindi deve avere almeno una lettera, almeno un numero, almeno 8 caratteri e di questi 8 almeno 3 devono essere univoci. Possiamo per esempio inserire una data che può essere semplicemente la data di oggi, quindi vedete ho inserito 8 caratteri, di questi 8 all'interno c'è almeno un numero, 3 sono caratteri univoci, l'unico vincolo che mi manca è quello di aggiungere una lettera, quindi aggiungiamo una lettera, ecco qua, e vedete che la password in questo momento è diventata, il riquadro password è diventato azzurro e quindi corretto. A questo punto possiamo cliccare su crea account e come vedete, ecco qua, abbiamo creato il nostro account, qui sotto avete una panoramica su tutti i siti, le applicazioni che potete utilizzare con nome utente e password che avete appena creato, a questo punto possiamo cliccare su chiudi e veniamo reindirizzati automaticamente alla dashboard del sito, quindi alla vostra pagina personale praticamente, avrete questa pagina di benvenuto, dove ci saranno degli esercizi per fare un po' di pratica, il nostro è un corso molto molto pratico, quindi per il momento questo non ci interessa, potete andare a chiuderlo, con questo chiudiamo la prima lezione che era introduttiva sull'apertura di un account e dalla prossima cominceremo ad esplorare la dashboard e vedere come creare un progetto.